Il 10x600 metri è un elemento perfetto per chi prepara i 3.000 metri, è un elemento sicuramente adatto e divertente anche per chi prepara i 5.000 e i 10.000 metri, si tratta dell'elemento di resistenza lattacida da fare all'inizio dell'SPP, quindi quando cominciano le gare. E' un elemento diciamo abbastanza intenso e che ti consiglio di ripetere più volte, tutti questi tipi di allenamento ma ripetuti più volte perché risultano poi efficaci, quindi ti consiglio di tenere questo allenamento a intervallo di 7-10 giorni e questo allenamento va sicuramente fatto almeno 7 giorni prima della gara. A che ritmo dobbiamo correre i 600 metri? I 600 metri vanno a corso e a ritmo gara sui 3.000 metri, quindi se corri 3.000 metri in 12 minuti, quindi a 4 al chilometro, dovrei correre i 600 metri a 2 minuti e 24 secondi al chilometro. E' un elemento sicuramente divertente da fare sicuramente in pista, il mio consiglio è di farlo in pista, ti auguro quindi buon divertimento con il 10x600 metri, ti saluto, ti ringrazio, ti abbraccio e mi raccomando sempre a canna. Grazie a tutti!